E a proposito di innovazione e sviluppo, proprio nella marca trevigiana un gruppo di imprenditori ha brevettato un nuovo materiale, si chiama CAUDEX. Questa bicicletta è di legno? No, è rivestita in legno. Veri e propri fogli di legno dalle più svariate applicazioni, da una piccola azienda di Castelfranco Veneto, un brevetto per un nuovo materiale che fa della duttilità, della flessibilità e della sua eleganza gli elementi più significativi. Il nome dato dai suoi tre inventori è CAUDEX. Il CAUDEX è un materiale innovativo e in buona sostanza dei fogli di legno accoprati a un supporto cellulosico, carta o cartone. CAUDEX in latino tronco d'albero e alla base di questa invenzione vi è l'intendimento di sfruttare la parte di legno inutilizzata con le lavorazioni più tradizionali. L'idea del CAUDEX è nata dal recupero di questi scarti, di questi sfritti che noi abbiamo in lavorazione, che fanno parte del 30% della nostra lavorazione e da qua noi abbiamo pensato di recuperare questa materia prima molto importante. Il CAUDEX in sostanza nasce dall'unione tra tradizione e innovazione. Recuperare l'artigianalità in sinergia con le nuove tecnologie. Carto tecnica e allestimenti, queste le attuali applicazioni del CAUDEX, ma gli inventori guardano già il futuro. I possibili svolti commerciali sono delle agende, delle scatole, giocattoli o allestimenti interi. Ma stiamo già indagando altri settori come possono essere quelli dell'arredamento di cartone e utilizzare le stesse tecnologie e quindi rendere retrocompatibile il nostro materiale con le attrezzature esistenti già nelle aziende.